In promozione, la prima pagina è per il Lido dei Pini, che con De Carolis e Cristofari fa 2-2 in casa della Lepanto, mostrandosi ruggente come un felino affamato. I Re della Foresta del gruppo F in prima sbranano gli avversari, Poker Torvajanica sul Montello, Tris del Colosseum sul Sabotino in un duello senza fine lassù, ma nell'Elite del Girone non può mancare Nobili per il vantaggio del Genzano, poi raggiunto con Lombardi dall'indomabile Indomita. Fa melico il Campoverde ne fa 5 al Roccasecca, intanto che con Marson l'Airclima azzanna l'intera posta in palio. La giovane truppa del generale Tontini sogna un finale ricco di emozioni, e in una giornata da Leoni non poteva mancare lui, Roberto Arena. Il bomber, dopo il gol 250, con una zampata delle sue, graffia lo Sporting Nettuno in 10 e va già oltre il suo stesso record. Regalando l'X al Monte Giordano. Pari e patta è giusto responso tra Big, col profilo della fanciulla appena un po' più su, e quello della nuova Circe, che beffa l'Artea e col blitz in trasferta va a più 2. 7 club in 8 punti. Come andrà a finire?